E' la partita da vincere a tutti i costi, non ci sono altre strade da percorrere. Il Gela domani ha un solo obiettivo, si chiama successo. I tre punti avrebbero un effetto dirompente sul proseguo del campionato di eccellenza, quando manca poco al giro di Boa. I biancazzurri, fischio d'inizio previsto per le 15, riceveranno la visita del Dattilo Noir. Al Presti si sfideranno quarta contro seconda in classifica, divise da soli due punti. Ecco perché vincere sarebbe importantissimo. Finora, davanti al pubblico amico, il Gela ha sempre fatto bene. In sei partite, cinque vittorie ed un pareggio. Un vero e proprio bunker il Vincenzo Presti. L'abbiamo definita nei giorni scorsi la madre di tutte le partite, anche perché la formazione del Dattilo fino alle 15 di domenica scorsa era l'unica squadra imbattuta del girone. Poi è arrivata la sconfitta interna con Mazzara. In una settimana il tecnico dei giolesi, Toto Bruculeri, ha catechizzato a dovere i suoi ragazzi in merito all'importanza che riveste il match di domani. Mai più, ha sottolineato l'allenatore, momenti di smarrimento così come è accaduto domenica scorsa in casa del Castelbuono. Ricordiamo che il pari degli ospiti dopo il gol di Nassi è giunto a pochi minuti dalla fine della contesa. Bisogna essere concentrati dunque fino alla fine. Intanto in casa biancazzurra, nelle ultime ore, ci sono stati movimenti di mercato in entrata ed in uscita. Sono arrivati il difensore centrale Gerry Russello, il terzino Valt Resposito ed il giovane Liuzzo. Sono andati via Gona e Pira. Non sarà della partita di domani lo squalificato Scerra. Bruculeri però potrà disporre di Caci e Floridia. Non ce la farà invece tre piedi. Per la partita di domani il costo dei biglietti è il seguente. 8 euro in tribuna e 5 euro in curva. Le donne in tribuna pagheranno 5 euro.